buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce il tour della consapevolezza il consapevolezza tour continua incessante ed oggi sono qui per comunicarvi le prossime due date ovvero sabato 4 maggio a torino e il giorno dopo domenica 5 maggio a milano si tratta di due date ravvicinate per questo ho deciso di comunicarvelo in un video unico fatemi sapere se venite rispondendo al sondaggio qua in alto e soprattutto qua nei commenti ditemelo milanesi venite forse vi voglio carichi gente di milano vi voglio carica torinesi venite fatemelo sapere scrivendolo qua nei commenti chiaramente sono ben accetti anche tutti coloro che vengono da altre parti d'italia potete venire serviva anche ad entrambi i raduni ripeto sabato 4 maggio a torino e domenica 5 maggio a milano nello specifico sabato 4 maggio ci troviamo a torino alle ore 11 davanti alla stazione principale porta nuova quindi ore 11 ritrovo aspetteremo lì fino alle 11 e mezza e poi ci recheremo in un luogo che poi vi comunicherò successivamente stavo pensando che potrebbe essere carino andare al parco del valentino mi pare si chiami così cercando un po su google fatemi sapere voi di torino nei commenti se vi pare una buona soluzione oppure accetto suggerimenti d'accordo perché quando mancherà una settimana farò un ulteriore video vi dirò esattamente dove potremmo andare però una certezza c'è ci vediamo sabato 4 maggio a torino alla stazione porta nuova alle ore 11 creo anche un gruppo whatsapp che si chiamerà raduno a torino quindi scrivetemi in privato su whatsapp il mio numero descrizione lo metto anche qua e vi invito al gruppo d'accordo ore 11 porta nuova per quanto riguarda milano invece il giorno dopo ci vediamo non alle 11 ma un po più tardi ci vediamo a milano attorno alle 13 barra 14 come due anni fa alla stazione metro duomo quindi in piazza del duomo come i raduni due anni fa perché c'era ci troviamo lì torno alle 13 barra 14 aspettiamo un po il vostro arrivo e poi ci riecheremo nei prezzi del castello sforzesco al parco sempione ok sia a torino sia a milano staremo tutto il giorno in compagnia fino a sera e la sera cercheremo una pizzeria per mangiarci una bella pizza chiaramente come sempre ognuno va via quando vuole d'accordo anche per quanto riguarda milano ho un gruppo whatsapp chiamato raduno a milano quindi iscrivetevi in privato e vi invito al gruppo non è obbligatorio entrare nel gruppo è semplicemente per avere un punto di riferimento se vi va anche per comunicare eventuali ritardi per chiederci dove siamo e così via ripeto quando mancherà una settimana ora ne mancano circa due e mezzo quando mancano la settimana farò un nuovo video e vi dirò esattamente con ufficialità l'orario e il punto di ritrovo ma che comunque già ufficiale torino porta nuova stazione milano duomo d'accordo torino ore 11 sabato milano domenica attorno alle 13 14 quando mancare una settimana vi dirò l'orario esatto se più alle 13 se più alle 14 fatemi sapere nei commenti scrivetemi su whatsapp così vi invito nei gruppi e ci vediamo fra più o meno due settimane e mezzo barra tre settimane d'accordo vi anticipo che a giugno ci sarà invece il raduno a bari però per questo c'è tempo un abbraccio mi raccomando voglio sapere chi viene scrivetemi e ditemelo ciao a presto